or fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza poiché se crediamo che gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati il dio per mezzo di gesù li ricondorrà con esso lui poiché questo vi diciamo per parola del signore che noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di dio scenderà dal cielo e i morti in cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il signore nell'aria e così saremo sempre col signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole il brano esortativo prosegue ora toccando un argomento particolare di questa epistola paolo allude ai defunti con un termine quelli che dormono usato anche dai poeti greci e dalla gente comune nelle iscrizioni e nei papiri esso non implica perciò alcuna dottrina particolare per esempio il sonno delle anime in ignoranza significa non era la predicazione della risurrezione che i tessalonicesi ignoravano questo brano sembra invece rispondere alla domanda precederemo quelli che si sono addormentati cioè il fatto di essere morti prima del ritorno del signore significherà uno svantaggio rispetto a quelli che saranno in vita paolo risponde no i morti in cristo risusciteranno per primi sono queste parole nel parere dato da paolo e tessalonicesi che portano l'accento principale e dobbiamo stare attenti a non spostarlo sulle altre infatti gli elementi descrittivi del ritorno del signore sono subordinati a queste e sono formulati nel linguaggio tradizionale apocalittico grido voce ad arcangelo tromba nuvole paolo esprime questo parere affinché i tessalonicesi non siano tristi come gli altri questo non vuol dire che si rattristino un po' meno bensì che non si rattristino affatto distinguendosi dagli altri quel che li distingue è la speranza a differenza di certi aneliti e intuizioni di alcuni non cristiani sulla vita futura i credenti in cristo hanno una speranza fondata sulla risurrezione del signore poi noi viventi verso 2 sembra implicare che paolo attendesse il ritorno del signore prima della sua morte la risposta che paolo dà all'incertezza dei tessalonicesi culmina in un'affermazione che non è più solo un insegnamento ma un sospiro dell'anima credente e così saremo sempre col signore questa è la consolazione della fede verso 18 per parola del signore versetto 15 può intendersi secondo un insegnamento di gesù non riportato dai vangeli come ad esempio atti degli apostoli 20 verso 35 oppure secondo una rivelazione ricevuta dal signore come in seconda corinzi capitolo 12 verso 9 oppure secondo l'insegnamento dato da gesù in generale su questa materia la venuta del giorno del signore alla luce del contenuto dobbiamo intendere l'espressione il giorno del signore amos 5 versi da 18 a 20 sofonia 1 verso 15 eccetera la riveduta traduce giorno dell'eterno nei passi dell'antico testamento come un'allusione al momento del ritorno di cristo cioè della sua completa e definitiva manifestazione questo non esclude che esso sia anche giorno del giudizio come in prima corinzi 1 18 seconda corinzi 1 14 filippesi 1 versi 6 e 10 filippesi 2 verso 16 per lo più paolo lo menziona come spunto per esortazioni di vita cristiana il carattere improvviso e inevitabile della sua venuta è illustrato con le immagini del ladro matteo 24 verso 43 luca 12 verso 39 apocalisse 3 verso 3 e 16 verso 15 seconda pietro 3 verso 10 che viene nella notte col favore del buio del sonno dell'assenza di testimoni e delle doglie del parto matteo 24 verso 8 le conseguenze disastrose della venuta del giorno del signore per chi non è vigilante sono illustrate con il contrasto fra l'illusione della falsa sicurezza coltivata da tutti coloro che dentro e fuori della chiesa non prendono sul serio il dio e la sua parola e la rovina che verrà loro addosso geremia 6 verso 14 e zechiele 13 verso 10 matteo 24 versi da 36 a 43 il tono dottrinale cede il passo a quello esortativo ma voi fratelli bisogna sottintendere a differenza delle persone menzionate nel versetto precedente non siete eccetera eccetera che i credenti appartengono alla luce al giorno e non alle tenebre e alla notte è detto anche in romani 13 verso 11 e efesini 5 verso 8 nel brano di romani 13 questa immagine è associata come qui all'esortazione a vegliare versi 6 e 7 e all'allegoria delle armi verso 8 essere figlioli di qualcosa è un'espressione semitica che indica dipendenza o partecipazione o intimo rapporto i cristiani di tessalonica appartengono alla sfera della salvezza e non a quella della morte perciò devono essere coscienti della prossimità del signore vegliamo matteo 25 versi da 1 a 13 e vivere in modo adeguato senza cedimenti siamo sobri matteo 24 versi da 45 a 51 tuttavia potrebbe anche trattarsi di un'esortazione a non lasciarsi prendere dall'esaltazione apocalittica le immagini militari del verso 8 sono riprese da isaia 59 verso 17 ma paolo le applica la nota triade fede speranza amore la menzione di fede e speranza si addice in modo speciale al contesto quella dell'amore si colloca nella prospettiva della vita cristiana a cui alludeva il vegliamo romani 13 verso da 8 a 10 l'esortazione a vegliare è motivata con la volontà di dio destinati non alla condanna ma alla salvezza che ha avuto per suo strumento il signore gesù cristo la signoria e la morte di gesù sono menzionate insieme come le due facce inscindibili paradossalmente contrastanti del mistero della sua persona il fine della morte di cristo è stato di darci la vita insieme con lui qualunque siano le circostanze esteriori della nostra esistenza qui il verso 10 dormire sta ad indicare la morte fisica non per il sonno né per il lassismo dei costumi e vivere è usato in senso pregnante sinonimo di salvezza atti degli apostoli 11 verso 18 perciò sottinteso visto che il giorno del signore non vi coglierà di sorpresa l'insegnamento dell'apostolo su questo punto non ha solo per risultato un aumento delle conoscenze dottrinali dei tessalonicesi ma anche un incoraggiamento della loro fede e un'edificazione della loro vita comunitaria come già fate si ricollega a voi stessi sapete del versetto 2 grazie a tutti